Albi, buongiorno, ci troviamo ad Alpiaz, andiamo a fare il muffetto e a balizzare il pezzo del muffetto della variante alta, praticamente al 3D, è coperto dalle nuvole, speriamo si apre per poco. Di fronte a noi il bilo della variante alta con la variante bassa e poco più avanti tutte le creste di Montecampione che si portano a Colesantreno, l'esiazione per il muffetto. Salita al muffetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salmaniva a Montecampione si vede sempre oltre i 10.000 metri lungo le varie creste molto ampie e pallorabiche, a parte oggi. Grazie a tutti. 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 Le malghe sotto il monte Muspetto. Siamo alla deviazione. Variante bassa su variante alta al Piat. E' la crescita di Montecampione con la nebbia che sta salendo. Ci troviamo sulle treste di Montecampione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.